Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, è stato ricordato dall'Istituto di Cultura Meridionale attraverso il premio Cultura Meridionale voluto dal presidente Gennaro Famiglietti e consegnato al fratello del sindaco che ha cambiato il cilento, Dario. Un eroe del sud che ha pagato con la propria vita l'attaccamento verso le istituzioni, è stato un buon amministratore, si parla sempre di malamministrazione nella nostra regione, finalmente oggi possiamo ricordare un uomo che ha fatto tanto per la propria città, è un simbolo di legalità e noi abbiamo il dovere di ricordarlo, dico soprattutto noi più giovani che hanno appunto il dovere di ricordare una figura così importante come quella di Angelo Vassallo. Sì, noi stasera come Istituto di Cultura Meridionale abbiamo voluto ricordare un grande uomo, un vero eroe del sud, un simbolo di un sud che attraverso uomini eccellenti e coraggiosi come Angelo Vassallo hanno combattuto il malaffare e hanno combattuto con la vita la difesa del territorio. La società buona e civile del meridione ricorda Angelo in ogni momento e questa è un'occasione per ribadire il concetto della bella politica che può essere fatta anche con metodi molto semplici ma efficaci per parlare alla gente perché oggi la politica deve parlare alla gente e non parlare alle tasche dei cittadini ma parlare al cuore. C'è l'esperienza e credo poi quello che lui lascia realmente cioè l'esempio della buona amministrazione, del forte attaccamento alla propria terra una forma anche molto innovativa devo dire di affrontare i temi di governo di una città di una realtà così bella come Pollica perché è un cilento meraviglioso di grandissime e straordinarie potenzialità. Aver puntato da sempre e da subito sui grandi temi dell'ambiente o legato chiaramente allo sviluppo sostenibile quindi alle attività portuali la necessità di avere sempre un turismo di qualità e quindi il lavoro sulla dieta mediterranea insomma all'avanguardia rispetto alle grandi sfide che una realtà bellissima come il cilento ha come prospettiva.